Ehi la salve a tutti sono Theven96 e benvenuti in questo nuovo video bar lives perché c'è sia su youtube che su twitch come sempre su un nuovo episodio di Turmual su prima impressione e recensione, ho invertito la frase e voi fate finta di niente non importa, non importa allora ragazzi oggi come vedete ci troviamo appunto su Turmual Turmual, 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 Turmes, non lo so come si pronuncia con il DLC The It Is On che è il DLC diciamo più corposo, più importante che possiede il gioco io ringrazio tantissimo i sviluppatori per avermi passato le chiavi sia del gioco che del DLC quindi perdiamoci meno ghiacchiere e cominciamo, oggi mi vedete con la luce, ogni volta ogni tanto mi vedete con la luce dietro quindi ragazzi iniziamo a giocare, facciamo nuova campagna Turmual e The It Is On io direi di cominciare direttamente con la campagna The It Is On perché alla fine è il gioco base più il DLC quindi secondo me conviene cominciare con questo non è ancora completato la campagna Turmual e The It Is On secondo me deve essere tecnicamente la distrazione del petrolio consigliamo di completare la prima campagna base vuoi davvero continuare? sì sì sì, sono sicuro delle mie capacità prendiamo come personaggio Joshua, dai, mi ispira se non ci ho pensato, sì sì sì, va bene, va bene titolo, benvenuto nella mia città, sono il sindaco è bello vedere che c'è ancora chi ha fame di petrolio e accende un sacco qui in giro andiamo al municipio dove ti potrò segnare il primo appezzamento di terra offre la casa ok un petrolio che ne ho detto in una rapida presentazione va bene, va bene, queste sono le varie persone ecco il tuo primo appezzamento di terra è gratis, ti prego spero ci sia un sacco di petrolio, buona fortuna sarebbe stato molto molto carino se ci fosse stato il multiplayer non so se c'è qualche modo per averlo ma credo purtroppo di no Ciuciuf è così bello rivederti pensate di poter dare con me qualche viso familiare ti potrebbe aiutare a iniziare a trivellare men che non si dica grazie della mia potenza tornerà in sella vabbè questa è la presentazione di un po' di gente che ci ha dato va bene quindi ci spende un po' di soldi di tutti per assegnarli diciamo delle abilità ok come sapete ragazzi in questa serie prime impressioni e recensioni appunto o facciamo una prima impressione come in questo caso quindi non so nulla del gioco o sono proprio dei video recensione che torneranno in futuro li abbiamo fatti inizialmente nella serie per un po' non li stiamo facendo però vuoi così i cavalli siano più efficienti? ok qua si paga va bene va bene ah secondo me conviene dare un'occhiata a tutto questa è la stalla poi c'è il laboratorio la fabbrica la banca possiamo fare prestiti e il municipio mentre di qui si va a scavare va bene andiamo a scavare andiamo a scavare vediamo un attimo cosa bisogna fare ora puoi sfruttare al volo il gas connetti le tue condutture alla left o alla right vedrai come far salire il prezzo del petrolio quindi io devo fare praticamente fatemi vedere un attimo cosa c'è beh penso che devo montare il tubo questo ah no questo è per ingaggiare io come faccio ok non si può le fabbriche non possono perforare allora assumiamo uno di questi come faccio a collegare i tubi fatemi capire fatemi capire compro una perforatrice per salire il petrolio ok io direi di montarla beh per il momento la montiamo qui tiriamo un tubicino ok raggiunto il limite per le ok allora ne mettiamo un'altra qui perfetto tiriamo sempre un tubicino lo colleghiamo raggiunto il limite per le diramazioni ne posso fare solo una devo collegarle tutte e due quindi io direi possiamo comprare anche un carro ok e poi compriamo un silos che mettiamo magari qui al centro ok perfetto quindi per il momento noi stiamo estraendo il petrolio 080 065 questo è per non ho capito non lo so adesso capiamo piano piano possiamo angaggiarne un altro anche da questo lato per andare avanti rapidamente ah ok quindi così farmiamo un pochino di più ho montato i dubbi stortissimi però vabbè ah si può anche con la x va bene va bene la tengo premuto x faccio più comodo chiudi ah serve 150 non ti interessi prendo in prestito va bene mannaggia non lo sapevo aggiunto il limite per le dilamazioni e come faccio a mettere un tubo in più termine il 31 dicembre se colto i soldi no 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 mentre per andare via da qui per andare via da qui come si fa metti in pausa esco va bene sto guardando un attimo ragazzi come si fa non ho ben capito a cosa serve questo qui inoltre vorrei un attimo capire ingangio un rabdomante per trovare il petrolio però uno è andato è sparito tipo ah quindi qui c'è il petrolio monto la perforatrice però adesso non abbiamo di nuovo più soldi facciamo salire un po' gli interessi quindi se io faccio così e i tubi non possono intersecarsi quindi dovrei fare così eh ma non abbiamo mai un pizzico dei soldi eh vabbè prendiamo qualcosa in prestito su ah quindi si può fare così va bene le fabiche non possono perforare io vorrei un attimo capire anche se c'è la possibilità di collegarne una con l'altra a quanto pare tubi non possono intersecarsi raggiunto non è possibile collegare i soldi in superficie quindi non c'è modo per collegarne due però questo se ne è andato perché ok adesso qua giustamente stiamo facendo più petrolio questo non si può collegare quindi ogni snodo può fare massimo un tubo ok però il silo sa che serve cioè nel senso ci può entrare no adesso bisogna un attimo capire come funziona ragazzi eh torno in città ah ok ecco come si fa ok vuoi inviare screenshot no perdita di 1400 è un casino non è mio nome Jack suoniamo che se hai bisogno i macchinari per sfruttare il magma che questo è del DLC per appunto dei T-Zone 30.000 possiamo comprarlo perché qua dimenticato sono andato tutti da maiv stalla laboratorio compriamo profondità 2 scanner andiamo adesso un attimo ragazzi ramificazione ecco questo mi interessa alquanto anche per fora compriamo un attimo ciò che potrebbe essere utile tipo questo tipo tipo questo questo ok talpa non so cosa serve ma per il momento direi che va bene così guardate un secondo chiedo scusa allora io direi di tornare lì e vedere un attimo cosa abbiamo sbloccato magari facciamo anche il capanno conducibilità compro pure questo lascia la città ah no lascia la città per uscire mannaggia ok dove vuoi andare prima di rimedicare i terreni presso il municipio ah sta per i terreni già è stato già è stato già estratto io mi prenderei uno non troppo grande magari tipo questo su io mi prendo questo posso abbiamo finito torniamo fuori perfetto abbiamo una cosa andiamo a scavare se potete iniziare yes yes tanto un po' di soldi vedo che ce li abbiamo quindi nessun problema folle vuoi fare i soldi in poco tempo vendi in esclusiva la left dollar right ink per ricevere l'importo riportato sull'edificio collegando il gasdotto al magma ok e fuori se il petrolio scorrerà più veloce grazie al calore ok quindi praticamente noi prendiamo uno di questi lui ci dirà se c'è del petrolio qua sotto perché noi appunto non possiamo vedere non possiamo vedere lui adesso cerca cerca e non fa niente che deve fa? non ho capito ah lui cerca ok appena ci dice qualcosa vediamo un attimo ne prendiamo uno anche per questo lato quindi ogni ok lui ha trovato mettiamo la perforatrice attiva l'attraverso la roccia 7,50 asciugazze forse fino a qui potrebbe andar bene vediamo oh guardate quel petrolio perfetto sta pescando ora che abbiamo pescato possiamo mannaggia costano però sti tubi ci prendiamo qualcosina e facciamo così lui ne ha trovato un altro ne mettiamo un altro qui facciamo andiamo giù piano piano per capire un attimo dov'è questo petrolio che qui non c'è scendiamo ancora un picchio ok l'abbiamo pescato perfetto ovviamente adesso può diramarsi o forse no si ok in questo caso può diramarsi noi intanto colleghiamo questi e cominciamo a pescare il petrolio qui come fu riuscito oh come fa come faccio che sta succedendo quindi devo chiuderla no cosa sta finendo il petrolio che va non ho ben capito devo chiudere tipo uno snodo se chiudo uno snodo perché non sto capendo perché il flusso va al contrario e non deve andare al contrario come faccio scusate ho bisogno ancora qualche soldino perché così c'è la fuoriuscita e come faccio fa ah per accumulare il petrolio e come glielo metto adesso nel vostro superficie come mi collego a quello aspettate che sto un attimo cominciando a capire aspetta aspettare e vendere il petrolio left vale 700 noi possiamo fare così perché non vorrei che eh no perché ho fatto da qui a qui non sto capendo come si fa perché qua è bello complicatuccio non sembra però mannaggia e come lo metto perché sicuramente ci serve un carro questo è sicuro questo può vendere il petrolio a ho capito quindi ci servono i carri lui mette via questi fanno avanti indietro quindi ora possiamo e ci rivendiamo ancora un pizzico di soldi cominciamo a far scorrere il petrolio in modo che questi possono andare a svuotare ok ho capito ho capito non è troppo difficile dai una volta che il silo si è pieno poi bisogna vedere un attimo cosa fare ma qua si può dire non ho capito così lo va a vendere mentre così lo mette via ok e così ci sta dando i soldi va bene allora per il momento facciamoli vendere un po' perché abbiamo 6126 da ridare indietro che non sono pochi non sono affatto pochi complicatuccio sto gioco eh non pensavo un casino un casino quindi quando si svuotano le cose di petrolio ne dobbiamo cercare altre se sta riempituto qui veloci veloci svuota devo comprare qualche carro in più facciamo uno facciamo due in modo che si possono fare più velocemente non si possono accavallare inoltre noto va bene per il momento vediamo così se la cosa funziona qua pescano in due perché qui si vede poco purtroppo cosa sta accadendo c'è qualcuno che sta qua quanti carri voglio assegnati ne faccio due 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 rossi e due blu mentre silos come lo svuoto poi un casino sono per cento al mese valore rimanente locazione terreni mille io comincerei a prendere un altro robo dante qui robo dante si chiama rad rab domante rab domante e vediamo un attimo se ci segna che c'è qualcosa nelle vicinanze come soldi non stiamo andando per niente ah ok stanno cominciando a prendere dal silos perfetto ok qua sotto c'è quindi noi mettiamo questa perferotrice qua perché già sappiamo che cioè vediamo che c'è qualcosa vediamo se comincia a pescare questo che cos'è questo è gas attenzione c'è una penna di gas da una tivella fai male per un pedale prezioso se è meglio venderli alla left o alla rating per far salire il prezzo del petrolio ok io i tubi non possono intersecarsi è un casino devo vendere sto tubo lo può rompere ah no così stiamo potenziando i tubi ben venga ok li potenziamo tutti va bene ma se volessi rimuovere un tubo invece come potrei fare perché ovviamente noi qua adesso abbiamo un grosso problema che tubi non possono intersecarsi allora io lo porterei fino a qui in modo che si collega e il flusso dovrebbe stare no sta passando qualcosa quella si sta riempendo perché adesso c'è anche il gas sta facendo casino cosa sta succedendo sta succedendo ci sono più carri ne compriamo ancora uno e uno ne dedichiamo uno e uno ok no ne voglio tre tre ok c'è una perdita di gas devo ricollegare sono lenti mannaggia ma qua ho fatto un casino come tolgo i tubi come si tolgono i tubi questo è un bel problema devo capire come si fa ma siamo sicuri che non si può si riempono veramente velocemente abbiamo bisogno di un sacco di carri ne segniamo quattro e quattro dovrebbero fare un pochino di più ok io posso portarlo alla trivella così però io dovevo portarlo qui ma i tubi non si possono intersecare quindi è finito primo ottobre perché si è bloccato tutto che è successo che è successo è finito il petrolio mannaggia e mo io ho capito che i tubi non si possono intersecare ma come tiro una nuova via o perlomeno posso rimuovere i come si dice i tubi se io rifaccio così posso toglierlo o no abbiamo 5.000 allora per il momento ci tocca leftare la prossima volta sappiamo come funziona ma che è far waste è ciò che è far waste ah vedete abbiamo finito abbiamo avuto una perdita di 14.000 molte per fuoriuscita bisogna pure stare attenti porca zozza cassa ma perde meno 14.000 hanno aperto un nuovo locale visitatori fare il dollaro in poco tempo sfidami i glower mi avete più alta più basta per giocare devi pagare 500 gioca più alta mannaggia ma grazie per i soldi eh grazie grazie al cazzo e quindi ho perso vabbè io pago tutti tasse vabbè io faccio tutto che vedevo di qua non abbiamo più niente stalla dimensioni assolutamente velocità anche con questo comando comando contatori no per il momento non mi interessa vorrei però sbloccare talpa velocità 2 larghezza dei tubi ramificazione a 3 ok più velocità non abbiamo più soldi bene benissimo ok andiamo a rimedicare il terreno siamo per andare in banca rotta ragazzi miei ed è finita io mi prendo mi prendo questo terreno qui nell'angolino sapete vediamo vediamo molto carino per il momento ma difficile mazza se è difficile mazza lascia che le mie talpe ti aiutino loro stanno sbloccando cose e andiamo non abbiamo più soldini mazzagis mazzagis allora ravdomante potenza tutti i carri dopo qui dobbiamo sbloccare qualcosa è tutto vuoto vediamo intanto lui se ci dice che c'è petrolio vediamo non trova petrolio dai su dai su non ne trova facciamo uno anche da questo lato vediamo il primo che trova qualcosa stavolta non vorrei far prestiti quindi occhio occhio basta che non me lo fanno lontano che poi devo portare 4 km di tubo finisce il 31 dicembre come al solito no ma tu vai di qua vabbè che hai già guardato però amico mio non c'è c'è petrolio 900 e 900 eh conviene un po' di più in rosso vedo che vale sempre qualcosina in più oh non c'è petrolio eh si che abbiamo dato lo scanner più grosso ok lui ha trovato qualcosa quindi perforatrice mannaggia ho spiegato soldi scendiamo di un pochino e vediamo se c'è qualcosa ah guardate quanto più veloce buono buono sta pescando e andiamo a collegarla direttamente allora cominciamo a comprare il primo carro facciamo andare a vendere perfetto ah va anche più veloce buono 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 ok stiamo cominciando a ingranare i soldi ottimo quest'altro a sinistra ancora non ci ha trovato niente per il momento vedo che basta un carro oh finalmente ha trovato pure lui quindi proviamo a scendere così scendiamo un peluino niente scendiamo ancora vediamo se troviamo qualcosa non trova nulla mannaggia dov'è sto petrolio scendo ancora eccolo ok mo vendere da questo lato è un casino perché non abbiamo i 150 per il cavallo quindi dobbiamo un attimino aspettare ma io ti ho segnato il rosso perché vedi la ah perché lui pesca però se mi vendi sarebbe meglio perché questo sta riempì poi mi fa le fuoriuscite porca cazzozza ma finisce male è finita voglio una bancarotta vendi vendi 150 dai yes copiccarlo veloce te lo segno qui blu perfetto non dovrebbero più intersecarsi uno con l'altro adesso velore petrolio sta salendo perché adesso sta calando l'altro me non ho capito cosa serve questo tubo qui forse non serve niente sapete proviamo a potenziare il tubo anche qui li potenziamo un po' adesso abbiamo un po' di soldini ok così ne pesca molto molto di più ovviamente ci serve un altro cavallo assegnato qui e un altro cavallo assegnato qui però non devono intersecarsi perché se fanno avanti e indietro è un casino vedete vedete poi che succede eh ne devo assegnare ancora veloci veloci chiudò la pompa chiudò la pompa ok un altro di qua subito urgente un altro di qua ok possiamo riaprire la tubatura ok questo vale di più perché abbiamo fatto il collegamento però io voglio ancora un paio di rabdomanti perfetto ah stavolta sta andando bene le prime 96 ha capito però da sto lato si sta riempi un sacco perché vedete che fanno avanti e indietro questi maledetti potenzia tutti i carri ok così ciucciano di più potenziamo ancora ora sono belli performanti vabbè io metterei una scavatorice qui a caso tiriamo un tubo lungo lungo vediamo dove va a finire se troviamo qualcosa su su perché qua ovviamente il petrolio starà finendo sicuro proviamo ad allungare ancora un po' così vediamo eh si quel petrolio se n'è andato ormai potenziamo anche questo tubo anche questo tubo sta finendo il petrolio qui perfetto qui vedo che c'è qualcosa però ah ok dobbiamo poter perforare le rocce ok ah quindi questo è solo una roccia non stiamo trovando più una cippa non ho capito che gioco è si chiama tourmual praticamente un gioco basato sullo scavo del petrolio diciamo molto molto semplice come vedi non c'è troppo da fare un classico gestionale sempre molto molto carini da vedere qua stiamo a finisoldi però se non troviamo petrolio facciamo un'altra perforatrice qui non stiamo trovando nulla questo è un problema mandiamo un po' di tubi in giro a caso ho trovato una roccia non possiamo ah questa è lava come si estrae la lava come si estrae la lava non ne ho idea però qua abbiamo trovato qualcosa mente di qua se non troviamo petrolio ragazzi è finita ci tocca fare un prestito niente potremmo andare ancora un pelo di qua sperando bene niente a fare ci servono prestiti per forza facciamo per il momento solo un 500 continuiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa ecco qua non c'è più niente c'è più niente non abbiamo provato quassù proviamo dovrebbe esserci qualcosa qui in giro lava niente da fa posso avanzare ancora poco il radovante non mi ha detto nulla facciamo un po' di prestiti per forza non possiamo rischiare di rimanere a secco mandiamo un po' di stradine in giro così qua abbiamo trovato del gas che la lava potenzia i tubi però a noi mannaggia quanti soldi dobbiamo ridare proviamo a scendere qui e proviamo a scendere qui un pelo eh l'ho vista la roccia l'ho vista questo è un problema non c'è un goccio più di petrolio mi sa possibile proviamo qui oh petrolio petrolio buono finalmente ok ok stiamo cominciando a produrre tiriamo questo cavo qui allora così facciamo circolare da tutte e due il petrolio e scavano più veloce ah ok questa è grossa eh potremmo far andarci più di un tubo vediamo perché adesso questi tubi sono tutti da potenziare ovviamente sono quelli piccoli sono quelli piccoli veramente scusa ma se si blocca è finito tutto eh sì in quel caso vai in fallimento ed è un bel problema il problema è che voglio capire se c'è la possibilità di rimuovere i tubi che abbiamo fatto perché giustamente comincia a diventare un po' scomodo alla lunga no io vorrei fare così in modo che peschiamo questa lava ok e poi cominciamo a potenziare esatto vedete sono molto più efficienti i tubi adesso questo non sta pescando va bene dobbiamo potenziare questa trivella il prima possibile questa può perforare sì vediamo se c'è qualcosa qui magari dobbiamo un attimo cercarlo l'altro petrolio abbiamo potenziato tutti i tubi assolutamente no quanti soldi se ne vanno però per i tubetti io voglio capire come scollegare un tubo ah sicuramente questo cosa lo chiudiamo ok qua proviamo ad andare in giù di qui questo lo chiudiamo così non passa più ok non credo non credo che ce ne sia una così vicina ancora proviamo a scavare da questa adesso qui non c'è nulla facciamo andare una di qua e una di qua chiudiamo quelle che non servono ok oh soldi ne stiamo facendo vabbiamo del cielo però io vorrei trovare esatto del petrolio abbiamo visto che qua ce n'è portiamo un tubicino bam così anche di qua comincia a ripescare andiamo qua per il momento potenziamo questi due tubi così anche il blu comincia a rivendere ma ragazzi io sti giochi veramente li adoro ci passerei le giornate a giocarci oh qui abbiamo visto che c'è del gas però prima di prendere gas vorrei provare ah mannaggia la roccetta dobbiamo andare giù di qua giustamente tutta sta strada qui non serve quindi qua lo chiudiamo è finito il petrolio lì fra poco finisce anche qui dobbiamo continuare a cercare nel frattempo per forza per forza adesso che abbiamo un po' di soldini vi ho detto che possiamo vendere anche il gas quindi proviamo a far così vediamo come funziona noi dobbiamo chiudere qui il gas sta circolando il gas è arrivato qui qui non l'abbiamo collegato lo colleghiamo direttamente qua e poi colleghiamo questo con questo vediamo un attimo come aggirare questa situazione potenzio perché gas parte da qui cazzozza sale tantissimo il costo del petrolio col gas ok vediamo quando finisce c'è ancora molto poco ok è finito possiamo riaprire la perforatrice non mi sembra ne pesca più ah si ok niente proviamo qui proviamo qui buon affare perché non ho più idea di dove cercarlo il petrolio possiamo provare qua proviamo qui mannaggia come si fa come si fa a cerca il gas vedo che è finito apriamo no non è finito però vabbè eh ma come lo faccio andare via sto gas è rimasto nei dubbi eh lo facciamo uscire tanto ce n'è poco credo da qualche parte lo sta pescando ok è finito perfetto proviamo a tirare un tubo qui un tubo qui stiamo finendo le risorse ah il 31 dicembre ma guarda dov'era c'è ciò girato intorno ma veramente siamo andati lo stesso in perdita per la fuoriuscita no abbiamo speso troppo abbiamo speso troppo ok molto carino ragazzi veramente molto molto carino molto molto ok ok allora noi siamo andati praticamente in bancarotta ormai quindi diciamo che dobbiamo ricominciare pepite d'oro adesso si possono anche trovare cose ok che ho scoperto finora non ne ho non ne ho altrimenti li avremmo potuti vendere veramente veramente carino ragazzi io secondo me possiamo perché o chiediamo un prestito alla banca sta con interessa il 24% all'anno ci vendiamo giusto i 2000 per le spese iniziali c'è un 2005 ok proviamo così proviamo l'ultima l'ultima volta sta per i terreni mi giuccio questo qui il mio petrolio ci ha tolto dei soldi no non ho bisogno di aiuto ma ho bisogno di soldi che è ben diverso noi abbiamo 4000 di prestito da ridare vai facciamo l'ultima l'ultima prova su perché è veramente veramente carino quindi ne vale assolutamente la pena farci un'altra partitina al volo allora ora per conto le aggiunti prima che siano terminati ah ok ottimo allora perfetto abbiamo già pescato il primo petrolio quindi cavallo e cominciamo a pescare potenziamo anche dai tubi anche lui ha trovato andiamo giù un picchio ok sta pescando ottimo allora assegniamo un cavallo qui e un cavallo qui cominciamo a vendere però non ve ciucciate a vicenda porca miseria che poi è un casino su che si sta a riempire dai va venne va venne porco due tocca chiuderla mi tocca chiuderle sono lenti sti qua oh diciamo così cominciamo ad assegnare cavalli poi andiamo avanti poi andiamo avanti ok credo che possiamo riaprire sto pescando veramente tanto però ok eh vabbè succiatevi a vicenda fate qualcosa basta che svuotate ne segniamo già 4 e 4 così per un po' stiamo a posto ok ne fa tempo con la scusa continuiamo un po' scavare a cercare altro in modo che non rimaniamo a secco nel frattempo qua ci si aveva la perforatrice già ok non sta andando male però dobbiamo assolutamente potenziare i carri bam perché qui vedo che già si stava riempendo un po' troppo qua diramiamo facciamo qualcosa al volo diciamo che sta a finire il petrolio pure ed è qua non è facile proviamo ad assumere uno di questi vediamo se trova lui niente da fa oh petrolio petrolio ok chiudiamo aggiunti che non servono questo sta pescando ok si questo si può chiudere dovrebbe defluire yes mi dice che qui c'è qualcosa proviamo proviamo ci costa vabbè ci costa un po' però cominciamo a potenziare tutti sti tubetti qua facciamoli anche tutti insieme tanto non abbiamo più soldi potrebbe essere ovunque quindi cerchiamo bene e niente qua finché non si vende un pizzico non si può fare molto raddomante diceva più o meno qui vediamo se è vero potrebbe essere tranquillamente qua eh conoscendo ormai come funziona eccolo qua guardate se non è gas ok chiudiamo questo vediamo aggiunti che non servono che non abbiamo soldi perfetto dai vendete questo questo si chiude questo si chiude all right proviamo ad andare un po' di qua adesso vediamo se troviamo qualcosina qua magari lo facciamo non abbiamo più soldi i tubi principali li abbiamo potenziati tutti si non sta andando male stavolta eh dobbiamo andare di qua qua vedo che c'è qualcosa è gas chiudi la tubatura subito ok allora questo gas deve andare direttamente lì quindi chiudi questa tubatura apri questa tubatura così facciamo crescere il prezzo di là nel frattempo poi continuiamo ad esplorare e vedere se troviamo qualcosa vediamo così abbiamo trovato alto petrolio perfetto potenzia potenzia e rimuovi la chiusura alto petrolio anche qui benissimo sta andando veramente bene stavolta stiamo trovando un sacco oh lì il prezzo è levitato ottimo continuiamo a cercare i carri per il momento vedo che basta ne avanzano quindi non facciamoci troppi problemi abbiamo trovato alto petrolio quindi dobbiamo potenzia 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 chiudi apri apri ok dove c'è gas ah è rimasto del gas da prima credo va bene fa niente fa niente dobbiamo scendere qui così vediamo anche quanto petrolio è rimasto qui c'è qualcosa sperando non sia gas tanto l'autopatura è chiusa ok è gas allora noi dobbiamo portare il gas quindi chiudiamo qui facciamo così e così ci vorrà un po' a portarlo però oh con calma e sangue freddissimo proviamo ad esplorare anche queste zone che ancora non ci siamo andati ho trovato una roccia oh abbiamo trovato il magma ottimo ok troviamo qui troviamo qui chiudiamo assolutamente dove non serve ho pescato ok allora potenziamo questi due tubi e riapriamo qui ok è arrivato bam è lì il prezzo comincerà a salire invece continuiamo con questa via a cercare il petrolio stiamo così andiamo qui proviamo anche qua non si sa mai proviamo qui abbiamo trovato una pepita attenzione voglio chiudere le strade inutili tipo questa era inutile non c'è più molto da trovare secondo me però noi cerchiamo lo stesso proviamo da qui che è chiuso qua visto che c'è qualcosa bam bam abbiamo quello quindi chiudiamo stavolta questo giunto qua così facciamo passare il magma ah non serve ah non serve ok allora questo giro era inutile va bene proviamo così proviamo così proviamo qui 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 abbiamo trovato del gas occhio occhio allora qui c'è del gas noi dobbiamo portarlo qui quindi io direi sfruttiamo questo tubo facciamo così colleghiamo questi due in modo che fanno un collegamento diretto qua comunque non c'è più petrolio mi sa continuo a cercare ma mi sa dura trovare ancora qualcosina abbiamo trovato della gas questo gas lo facciamo andare diretto vediamo qui abbiamo praticamente esplorato quasi tutto dove dove oh da dove arriva sto gas da dove è arrivato ah perché ha girato così mannaggia eh ormai è così è andata così chiudiamo questo apriamo questo ok eh qua abbiamo avuto un po' di perdite eh fa niente dai proviamo qui 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 c'è già posso provare qui posso provare qui qui mamma mia che casino abbiamo combinato qua si cresce più penso che abbiamo trovato tutto sapete dubito ci sia ancora qualcosa dubito abbiamo pescato da dove aspettate che qua si è chiuso tutto il circolo sto flusso sto facendo un giro molto strano qua bisogna chiudere ok qui che giro sta facendo abbiamo trovato ok io ho sentito pescare alto petrolio ma non ho capito da dove boh secondo me più di così non si può cerchiamo ancora un pizzico ma qua c'è il petrolio ho visto passare dov'è questo da dove arriva sto petrolio forse era rimasto da prima dobbiamo aprire ha fatto un giro molto strano sto petrolio non so da dove si è arrivato vabbè vabbè fa nada che questo arriva da qui non ci c'è qua l'unica l'unica che resto sono tutte state molto molto piccole non credo ci sia ancora troppo diciamo ok riapriamo tutte le tubature chiuse perché vedete quanto petrolio si è incastrato in giro qua c'era pure il gas ancora vabbè guardate quanto petrolio avevamo perso ok eh dobbiamo far defluire un attimo tutta sta roba mazza quanto petrolio c'era quanto stavamo perdendo eh niente abbiamo praticamente finito pensiamo i carri giusto per oh dai 30.000 tutto rispetto eh di tutto rispetto sta uscendo un sacco d'aria ancora lì eh ste perdite secondo me le sentiamo anche perché è quasi il 31 dicembre no ok non c'è non c'è più niente è inutile guardare magari qui qui e qui e poi abbiamo finito le strade da provare dubbio a fare che vuol dire ah vedi vedi pulito preciso tutto abbiamo fatto abbiamo guadagnato stavolta oh tutto il petrolio venduto tutto il petrolio estratto tutto il gas in più in più fatemi vedere ok ah ok non ho capito abbiamo ridato indietro tutto il prestito e possiamo vendere ma come la prendo la pepita non lo so non lo so boh ragazzi io direi che ci possiamo salutare qui per questo episodio comunque vi ho mostrato un po' come funziona il gioco abbiamo visto un po' quello che offre all'inizio poi ovviamente andando avanti col gioco ci sono più cose come vedete si sbloccano i timer più veloci velocità dei tubi eccetera eccetera poi si sbloccano anche vedo edifici eccetera eccetera quindi ragazzi direi che per questo episodio delle prime impressioni delle recensioni è tutto da D2086 è tutto ciao a tutti Grazie a tutti.